qui c'è questo pozzo dove c'è l'acqua sono circa 6 metri poi ulteriori profondità dell'acqua io non lo so qui dentro la montagna prosegue la città seppellita questa che era questa qua una vasca c'è qualche vasco qua e bagnato colonna arrivati qui tutto bloccato praticamente la città prosegue e molto più estesa che logicamente hanno messo barriere al fine di evitare transito sì perché ci sono spene ma ci sono molti mattoni a trarre archeologico molto molto estesa in sopra la montagna come mai questo è il gioiello archeologico d'abruzzo e non hanno proseguito gli scavi non hanno dati dato altri finanziamenti qua ci passava l'acqua proseguiamo di qua